anno nuovo cammino nuovo il cammino di carlo magno 180 chilometri di percorso da bergamo a ponte di legno si parte da bergamo alta ma già a scanso rosciate ci immergiamo nella natura con scorci che a tratti ricordano la francigena toscana torre dei roveri o torrenieri scopritelo nel video della prima tappa a primavera sul nostro canale iscrivetevi per non perderlo